Perchè loro non la conoscono la storia e quindi devono scoprirla. Attraverso la figura dell'Ape Nardea e il meraviglioso mondo dell'Albeare, i ragazzi sono guidati in un percorso attraverso valori come l'accoglienza e la collaborazione, la pace e l'unità, l'integrazione e la comunione. La storia dell'Ape Nardea, parte della collana Storie Attive Mime e Pdocete, è un sussidio nel percorso educativo di ragazzi e adolescenti. Il cofanetto dell'Ape Nardea contiene il libro con il racconto, il quaderno attivo con domande e riflessioni che emergono dallo svolgimento della storia, un cd con i canti che raccontano i momenti più importanti del racconto. Il cofanetto è un utile strumento per percorsi di catechesi ed è facilmente utilizzabile per creare uno spettacolo teatrale con bambini e ragazzi. Ciao, ciao, ciao Nardea, a bene l'amica mia.